Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo nostro incontro organizzato dal Club Lions Ceglie Messapica, volto a conoscere persone che hanno raccontato la nostra Ceglie in tanti modi e questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi Monsignor Gianfranco Gallone. Iniziamo subito questa serata e quindi invito il Presidente a dare il tocco di campana. Vi invito a mettervi in piedi per ascoltare la Mission Lions. Permettere ai volontari di servire le loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale tramite il Lions Club. Prego, vi potete accomodare. Cedo subito la parola al Presidente per i suoi saluti. Buonasera, saluto tutti voi e il nostro ospite Don Gianfranco Gallone. Continuiamo, questo è il secondo incontro, il primo è stato con l'avvocato Augusto Conte e stasera siamo qui con Don Gianfranco Gallone. Noi siamo quelli che non presentano i libri, noi siamo quelli che fanno raccontare qualcosa all'autore del libro, come ci arriva e perché. Però un piccolo inciso, scusatemi, ieri è andato un pezzo di storia locale e folcloristica ciliese, il Giovanni De Fazio, cosiddetto Giovanna De Sacchette, che riposo in pace. Non mi dilungo perché voglio godermi questa serata e sentirti raccontare Don Gianfranco Gallone. Grazie a tutti voi per l'ascolto che presterete, grazie. Adesso la parola all'assessore per un suo breve saluto. Buonasera a tutti, ringrazio Lions per l'invito. Ho avuto già modo lo scorso incontro di esprimere il mio apprezzamento per questa iniziativa, questa possibilità di incontro-confronto con quelle che sono personalità del nostro indiceglie, che si sono distinte per la loro professione, per la loro attività, sia sul territorio che anche fuori. Sicuramente solo ascoltando i loro racconti abbiamo molto da imparare. È stato particolarmente apprezzato la volta scorsa anche per questo format un po' più innovativo, meno formale, più partecipato anche da chi poi ascoltava. Quindi insomma, sentivo prima la preoccupazione, un po' l'ansia della platea, ma assolutamente no. Questi incontri sono belli proprio per questo. Quindi ringrazio voi presenti e passo subito la parola alla dottoressa Scarafilo. No, a te. Prima di iniziare, io volevo presentarvi, laddove ce ne fosse bisogno, Don Gianfranco Gallone. È figlio della nostra terra, tutti quanti un po' lo conosciamo, oltre che nostro amatissimo sacerdote, però è anche cultore della storia di Ceglie. Storia e arte di Ceglie, ma oltre questo possiamo dire anche un po' cittadino del mondo, perché lui per tanti anni si è un po' fatto da pellegrino in tante nazioni, in quanto è segretario di nunziatura apostolica, e ha potuto visitare, conoscere e vivere tante altre culture diverse dalle nostre. E adesso è nella capitale, nella segreteria di Stato del Vaticano. Quindi dopo questa brevissima presentazione, passo la parola ad Agatha Scarafilo, che modererà la serata. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Intanto un ringraziamento ai Lions per avermi invitata a questo incontro. Un incontro a cui, da verità, ci tengo particolarmente, perché con l'occasione ho avuto l'opportunità finalmente di conoscere Monsignor Gianfranco Gallone, che non conoscevo di persona, conoscevo di fama, ma non di persona. In più, avere la possibilità di scavare nella sua persona, ma anche nei suoi lavori, nei suoi progetti, mi rende orgogliosa, insomma. Ancora di più perché, voi sapete, qualche di uno forse sa, io ho studiato anche teologia, quindi avere la possibilità di presentare, ma anche di colloquiare con un uomo della Chiesa, un uomo di Dio, impreziosisce ancora di più anche questo mio lavoro. Anche perché, come diceva il Presidente Leonardo Urso, il motivo della serata è quella non solo di conoscere le opere, ma chi c'è dietro le opere, quindi conoscere la persona. E un elemento fondamentale che ho scoperto proprio studiando teologia è che la teologia è lo studio intorno a Dio, ma in realtà dove c'è Dio c'è l'uomo, Don Gianfranco, e dove c'è l'uomo c'è Dio. E quindi di conseguenza ogni qualvolta riusciamo ad avere la sensazione che effettivamente, anche dietro alcuni lavori nostri, quotidiani, che può essere un'opera importante come il libro che ha pubblicato Monsignor Gianfranco Gallone, ma come può essere la nostra vita quotidiana, sappiamo che con noi c'è Dio e quindi rende ancora più importante tutto quello che facciamo perché in un certo qual modo collaboriamo, partecipiamo, diventiamo parte attiva di un progetto salvifico che è appunto quello dell'economia e della salvezza. Quindi io vorrei che oggi uscisse qualche cosa di importante da questo colloquio, riuscissimo a capire non solo cosa ha fatto Monsignor Gianfranco Gallone, ma chi è Monsignor Gianfranco Gallone, a cominciare da prima ancora che diventasse sacerdote, che dicesse il suo sì all'ordine sacro. Io in realtà ne abbiamo un po' parlato prima già con Monsignor Gianfranco Gallone perché ovviamente non volevo urtare le sensibilità di una persona che magari arriva all'improvviso a un incontro come questo di oggi e non sapere per niente cosa gli avrei chiesto. Non gli ho detto le domande, ma gli ho detto che andrò per macro aree, cioè Don Gianfranco prima del sacerdozio, quindi le domande saranno mirate a queste fasi della sua età, della sua vita. Don Gianfranco sacerdote, Don Gianfranco però che riunisce ad unire un connubio, riesce ad unire due aspetti fondamentali, quello della macro area, di un lavoro che lo vede coinvolto per il suo lavoro nell'ambito della diplomazia della Santa Sede, coinvolto in ambienti geopolitici vasti, e poi Don Gianfranco invece che nello stesso tempo però io ho usato nell'articolo volutamente il verbo fossilizza la sua attenzione, non è stato un errore, avrei potuto dire focalizza la sua attenzione in un articolo che ho fatto di presentazione di questa serata, io ho detto invece volutamente fossilizza perché il termine fossilizza significa ferma la sua attenzione e io so per certo che Monsignor Gianfranco Gallone si è fermato parecchi anni, ha fermato parecchi anni della sua attenzione anche nel locale fino ad arrivare a produrre un lavoro importante come questo, uno sguardo su Ceglie nella prima metà del Settecento ma so anche che ci sono altri progetti, quindi l'altro elemento a cui vorrei agganciarmi, vorrei conoscere, vorrei sapere quindi l'altro terzo punto sarà appunto su che cosa Monsignor Gianfranco Gallone sta lavorando. quindi detto questo passiamo finalmente alle domande e voglio sapere chi era Monsignor Gianfranco Gallone quando era piccolo, quando era fanciullo? Innanzitutto grazie e buonasera a tutti quanti. parlare della propria persona è sempre un po' imbarazzante perché si devono dire anche cose intime però non voglio essere molto autoreferenziale perché preferirò di più dilungarmi su questioni attinenti alla passione che mi porta a studiare la nostra storia locale. Comunque, io sono figlio di questa terra, quindi di Ceglie, provengo da una famiglia di agricoltori mio nonno teneva un frantoio e mio padre ha tentato anche di continuare questa esperienza del padre poi ad un certo momento ci siamo trasferiti in campagna perché noi abbiamo messo in croce nostro padre di comprarci degli animali allora avendo comprato, ricordo molto bene, nella fiera che c'era stata per l'occasione di Santa Maria la fiera che si fa in agosto a Ceglie, una mucca e due vitelli per quella mucca, per quei due vitelli siamo rimasti per tanti anni in campagna quindi tutta la mia fanciullezza fino all'inizio dell'adolescenza l'ho trascorsa in campagna a contatto quindi con la mia famiglia ricevendo un'educazione, credo normale, tradizionale vivevano con noi due prozie una sorella di mia nonna materna che aveva cresciuto mia madre e poi la sorella di mio nonno materno che aveva chiesto a mia madre di venirsene a casa nostra che era cieca e devo dire che grazie a queste due prozie è nato l'interesse di sapere, di conoscere perché le persone anziane hanno sempre voglia di raccontare allora raccontavano episodi della loro vita personale, di famiglia i nonni, i bisnonni, le notizie che venivano tramandate secondo la tradizione orale, dei grandi accadimenti che c'erano stati qui a Ceglie allora già questo dà in un certo senso il buon concime per poter crescere in un ambiente normale ricevere una buona educazione poi al momento in cui io ho dovuto cominciare le scuole superiori qui c'è stato il problema perché questo era il problema bisognava spostarsi perché scuole superiori a Ceglie non ce n'erano eccetto che cominciava in quel periodo solo il liceo classico io volevo andare al liceo scientifico quindi gioco forza dovevo spostarmi con il treno la mattina che partiva alla suddesta alle 6 e 5 per poter andare a Francavilla allora le zie si sono presi questo nipote perché potesse continuare gli studi quindi crescere durante questo periodo della vita con le zie è nata la vocazione le zie allora hanno avuto un ruolo fondamentale lei può individuare ad esempio in queste zie o in qualche altra figura la persona che veramente ha inciso in maniera più profonda diciamo per il cammino che poi invece ha seguito nella sua vita come ho detto nella prima parte quindi a casa nostra c'era questa zia di mia madre che a noi bambini ricordo molto bene ci insegnava le cosiddette cose di Christ quindi le preghiere qualche canzoncina poi ci prendeva per mano a me mio fratello più grande e ci portava a messa a San Rocco e quando si tornava da San Rocco di fronte a casa del professore c'era un piccolo tabacchino dove vendevano le cannuline quindi queste piccole cose ricoperte di cioccolato non so e lì ce ne comprava ricordo con 5 lire una manciata per me e una per mio fratello quindi già stando a casa da bambino ricordo che respiravo quest'aria religiosa e devo dire la verità giocavo a fare il prete quindi credo che anche nel gioco la persona, il bambino rivela la tendenza per quello che vuole diventare da grande poi nella mia famiglia c'erano anche dei preti c'era padre Ignazio che è lo zio di Giuseppina quindi che ogni tanto veniva a visitare la cugina, mia madre quindi questo fatto anche del contatto di vedere un prete che veniva a casa che era un parente e questo destava sempre curiosità e devo dire la verità questo di essere cresciuto in una famiglia molto religiosa come poi è stato quando sono stato con le mie zie soprattutto perché avevo una zia consacrata la più grande delle sorelle di mio padre quindi grazie a questa zia ho ripreso un cammino con la chiesa madre quindi le novene le processioni di cui nasce il desiderio e il gusto di essere presente a certe processioni perché quando tu da bambino sei stato educato a questo rimane questa affezione questo affetto questo sentimento io credo che è stato l'ambiente della famiglia che ha portato giorno dopo giorno la scelta vocazionale devo dire che le zie le sorelle di mio padre poi hanno giocato un ruolo molto forte perché quando il parroco Don Vittorio Mele tentennava nel decidersi perché io avevo cominciato il liceo stavo al secondo anno di liceo scientifico allora passare al seminario come poteva passare al seminario ne aveva parlato al vescovo di allora che ora è cardinale Salvatore De Giorgi e diceva De Giorgio no no deve studiare greco deve studiare bene il latino perché deve andare al seminario di Taranto e allora le zie dicevano Dovito ti devi decidere se no un po' un'amma in dalle religiose quindi perché ci tenevano che io dovesse diventare sacerdote questo dunque è il percorso ma in quale momento lei viene ordinato sacerdote nell'88 ma quando in particolare ha deciso davvero questa sarà la mia strada io diventerò un sacerdota credo che l'avvenimento sia legato all'arrivo a Ceglie della statua della Madonna Pellegrina di Fatima quest'anno il centenario di apparizioni che andrà canonizzerà i pastorelli Allora l'arrivo della statua Pellegrina e chi ricorderà quell'arrivo che credo che fu la prima volta che a Ceglie venisse la statua della Madonna di Fatima no no non era quella era credo l'81 credo no l'81 il 78 il 78 ricordo bene allora tutta la cittadinanza si sentì chiamata perché rimase solo due giorni in Chiesa Madre e ricordo che per quei due giorni le messe che si celebravano proprio la gente piangeva all'arrivo della statua della Madonna e poi accompagnò la statua nonostante che ci fosse una pioggia torrenziale sino dove è ora la zona Habitat sulla via di Villa Castelli perché doveva andare a Villa Castelli ma solo per mezza giornata perché aveva fatto il giro più o meno di tutti i centri principali della diocesi di Oria e tornando verso Taranto si doveva fermare per poche ore a Villa Castelli quindi credo che sia stato il passaggio della Madonna quindi ci sono dei momenti degli eventi particolari che ti segnano e credo che sia stato quello il momento in cui io ho deciso che volevo diventare sacerdote dopo il sacerdozio tanti incarichi in diocesi fino al 96 dal 2000 in poi lo accennava prima l'avvocatessa la Bellanova tanti incarichi a livello diplomatico per la Santa Sede annunziatura apostolica in Bonzambico in Israele e Cipro delegazione apostolica a Gerusalemme annunziatura apostolica Repubblica Slovacca in India in Svezia nei paesi nordici segreteria di Stato sezione rapporti con gli stati fino a luglio da luglio 2015 e attualmente invece è consigliere di annunziatura di prima classe quindi il mondo il globo il rapporto diplomatico in che cosa consiste questo suo incarico questa missione diplomatica naturalmente la formazione diocesana l'essere stato in diocesi questo ti porta ad avere un bagaglio personale quindi un bagaglio ministeriale sacerdotale che tu poi ti porti in giro per il mondo per il servizio diplomatico quindi è un inizio di una seconda fase della mia vita sacerdotale perché prima siamo stati formati a Roma quindi c'è una scuola che si chiama Accademia una volta era Accademia dei nobili perché solo i nobili potevano accedere al servizio diplomatico Pio undicesimo o Pio dodicesimo adesso non ricordo chi dei due ha voluto che l'accesso fosse libero per tutti i sacerdoti allora avviene che un vescovo presenta il suo sacerdote oppure è la stessa segreteria di stato che chiede come è capitato per me al vescovo di dare un sacerdote per il servizio diplomatico quando io ho accettato ho accettato con riserva in che senso ho scritto così nella lettera di accettazione accetto sintanto che questo servizio lo riterrò idoneo per la mia vita personale sacerdotale nel momento in cui mi accorgerò che questo servizio non è più adatto per me chiedo di essere lasciato libero e di tornare in diocesi e quando io firmai allora era il sostituto Monsignor Re ora è cardinale in pensione mi disse va bene va bene non ti preoccupare quindi cominciai questa preparazione che è una preparazione dove si studiano le lingue si studiano dei documenti particolari soprattutto per ciò che attiene perché l'aiuto principale qual è il lavoro principale lo dico subito che fa l'annunziatura apostolica all'interno di un paese è quello di essere di supporto di ausilio al Santo Padre nella scelta soprattutto dei vescovi quindi istruire l'indagine episcopale quindi per la promozione di un candidato all'episcopato in secondo luogo dipendendo dal territorio quindi io sono stato in due territori di missione Mozambico ed India significa anche seguire le opere missionarie quindi tutto ciò che la Chiesa costruisce in questo paese di missione la scuola il centro sanitario il centro sociale tutto ciò che promuove l'essere umano ad emanciparsi come persona quindi questa educazione religiosa oltre che catechetica per la preparazione avete più o meno appreso in questi giorni dal libro di statistica che è stato pubblicato che manifesta che la Chiesa cresce nei territori di missione e l'Africa e il continente dove la Chiesa sta crescendo di più e questo grazie ai missionari i missionari se possono lavorare perché c'è un'annunziatura che gli aiuta è un'annunziatura che fa aggiungere i sussidi ciò che si raccoglie la domenica per la giornata mondiale missionaria di ottobre tutto questo viene poi distribuito secondo un criterio secondo le esigenze di ogni singolo paese perché possono aggiungere i sussidi ordinari e straordinari a tutte le comunità e chi distribuisce questo denaro è l'annunziatura apostolica Monsignor Gianfranco Gallone conosce tre lingue portoghese francese spagnolo ed inglese ha avuto anche l'opportunità quindi di relazionarsi da vicino presumo vero nella missione diplomatica anche con la gente dei posti ho potuto cogliere anche attraverso il libro che lei ha scritto una particolare attenzione all'aspetto antropologico in questo macro globo in queste località dove lei ha potuto toccare con mano alcune particolarità dell'essere umano ha colto per caso un aspetto che invece che accomuna le persone a prescindere dai luoghi dai posti dal loro contesto culturale credo che ciò che accomuna perché il diplomatico è anche un osservatore quindi osserva per poi relazionare ecco ciò che a me ha colpito sempre ovunque sono stato soprattutto nei territori di missione come anche in Terra Santa e il ruolo determinante una donna molte volte riesce a fare molte più cose di quante ne possa fare un uomo ovunque sono stato questo mi ha colpito e la forza la determinazione che la sopportazione che ha forse più una donna di un uomo quindi vedere che credo che questo sia un elemento che accomuni tutto il mondo forse perché la donna è madre per vocazione quindi il fatto di avere nove mesi di gestazione di un figlio questo la porta ad essere una persona più forte anche se viene definita il sesso debole invece io ho notato che invece è il sesso forte perché la donna è quella che determina anche la storia familiare di un villaggio anche se non hanno storie le donne perché per esempio in Africa notavo perché questo mi portava a conoscere la cultura la cultura tribale allora venivo a sapere che la donna doveva servire l'uomo il marito che tornava da lavoro in ginocchio il cibo del desinare perché si mangiava una volta al giorno quindi offrendo quindi quando l'uomo si era saziato potevano mangiare poi i figli e lei però questo fatto di dedicarsi e di non lamentarsi dico questo è un elemento comune credo in tutto il mondo forse un po' meno dove sono stato in Scandinavia dove lo spirito femminista un po' ha stravolto quella realtà ma questo è tutto un altro fatto bene passiamo ora dal globale al locale lo dicevo prima nell'introduzione Monsignor Gianfranco Gallone ha pubblicato questo libro uno sguardo su ceglie nella prima metà del Settecento nel 2008 ed è frutto di una ricerca zelante la presentazione anzi l'introduzione per meglio dire perché la presentazione è stata curata dal vescovo Michele Castoro e l'introduzione invece di questo libro è stata curata dal professore Gaetano Scatignani-Minghetti che invito per la lettura appunto dell'introduzione fatta a questo libro grazie buonasera benvenuti e ben trovato che il tono sia sufficiente per poter fare a meno anche del microfono buonasera e che cosa devo dire che il libro di Don Gianfranco Gallone è un pass per tu per capire quale è la vocazione sua non soltanto sacerdotale o diplomatica bensì anche storica e questo libro questo volume è appunto la testimonianza veramente concreta di quanto il lavoro diplomatico storico antropologico svolge Don Gianfranco Gallone durante l'intera sua diciamo così tra virgolette missione non soltanto di sacerdote bensì anche di uomo comune di uomo dedito alla vita normale di tutti i giorni Don Gianfranco Gallone è anche uno storico storico serio perché il suo lavoro è basato sulla documentazione d'archivio non è una cosa come devo dire campata in aria non è uno storico da tavolino come quelli che vivevano nell'ottocento e per esempio noi abbiamo detto a Celle purtroppo un storico che ha fatto soltanto storia da tavolino in che senso questo nel senso che non ha pubblicato nemmeno un documento che fosse inerente alla ricerca da lui compiuta e quindi noi abbiamo qui a Celle uno storico che in sostanza non ha trascritto un documento di quelli che erano sepolti archeologicamente parlando nell'ambiente che Don Gianfranco Gallone vive e viveva quindi il fatto molto importante e qua lo dico non per piageria riguarda la dottoressa Agata Scarafilo la quale durante e porto qui nella mia cartella la copia dell'articolo che ieri è apparso sulla gazzetta del mezzogiorno come sempre è riuscita a cogliere il nocciolo della questione che riguardava la serata di questa sera cioè come fa Don Gianfranco Gallone a raccordare la sua vocazione di storico quindi storico soprattutto di micro storia cioè la storia locale con il suo incarico il suo impegno diplomatico ecco in questo diciamo così in questo nesso che accomuna l'una e l'altra sfaccettatura della personalità umana e culturale di Monsignor Gianfranco Gallone noi vediamo come fuoriesce questa singolare unione e è fuoriuscita in questo primo momento con questo volume poi uscirà con l'altro volume che lui ha in preparazione e che devo dirlo in camera caritatis mi mette in croce dicendo mi va bene questo sto facendo quest'altro tu che ne pensi tu che ne dici tu che fai tu che non fai e allora allora io lo stimolo io lo diciamo così tra virgolette lo correggo sempre tra virgolette perché Don Gianfranco Gallone non ha alcuna necessità di essere corretto quindi questo mio intervento e quelle pagine che adesso io leggerò come introduzione alla sua attività di storico stanno praticamente a illustrare quanto la dottoressa Scarafilo ha detto nel suo articolo e che ha esplicitato anche durante la breve intervista che ha preceduto questo mio intervento e allora leggo scusatemi tessera dopo tessera tassello dopo tassello come una immensa scenografica pittura musiva la storia plurimillenaria di Ceglie Messapica una delle città più antiche dell'intero mezzogiorno d'Italia va sempre più inconfondibilmente delineandosi del quadro articolato e complesso della storia regionale della Puglia e di quella nazionale della penisola italiana sono i suoi esponenti più avvertiti che come assidue api operaie si sono assegnati il compito spesso molto difficoltoso perché dispersi in archivi biblioteche raccolte private di ricercarne i documenti che possono testimoniare in modo incontrovertibile quanto si è verificato lungo il corso dei secoli nell'ambito religioso civile culturale economico della città messapica e quali siano stati gli accadimenti che hanno contribuito caratterizzandola a conferirle nel bene e nel male lo stigma fisionomico odierno di demo che riesce a coniugare con sapiente calibratura e cosciente sensibilità le proprie pregnanti vocazioni che vanno dall'attività agricola a quella artigianale dall'operatività culturale a quella turistica senza per nulla trascurare quella gastronomica e del terziario avanzato in genere adesso con la pubblicazione di alcuni saggi dopo la pubblicazione di alcuni saggi brevi presenta i risultati delle proprie ricerche storiche e socio-religiose afferenti la città di Celle messapica ecco qua il nodo e lo snodo oltretutto provveduto della intensa ed accorta esperienza sacerdotale e diplomatica maturata in ormai lunghi anni di permanenza nelle sedi internazionali più cruciali si pensi alla sede a Gerusalemme in Israele nella prospettiva istituzionale e geopolitica mondiale Don Gianfranco Gallone anzi Monsignor Gianfranco Gallone first secretary presso l'annunziatura apostolica in Tiv Slovak Republic con vari incarichi di chargé d'affaire in momenti e stati esteri diversi è una lettura intrigante quella delle pagine redatte dall'autore perché stimolano la curiosità intellettuale del lettore anche il meno corrivo ma in specie dello studioso di microstoria e per di più spingono a rendere la conoscenza della città di Celle messapica meno rapsodica di quanto non lo sia stata finora per la endemica mancanza di una ricerca che abbia previsto lo scavo sistematico la ricognizione argomentata negli archivi pubblici e privati locali e nazionali tra le carte delle famiglie storiche e degli enti già soppressi o da ancora oggi operanti l'itinerario intrapreso e percorso con pertinacia da Don Gianfranco Gallone possiede la scansione articolata della riflessione storica e critica di una panoramica esauriente della temperie socio-culturale di un comune di un comune del sud che in sostanza non è ancora non si è ancora oggi affrancato per certi versi dalla mentalità e dai modi di vita feudali che trova il proprio preciso riscontro nella angolatura particolare dell'indagine che si presenta all'attenzione dei lettori come un ritratto dai lineamenti densi marcati dai chiaroscuri abilmente calibrati per mezzo dei quali si rivive e si interpreta l'intera problematica della prima metà del diciottesimo secolo sia a Ceglie che nell'Italia del Mezzogiorno che ancora nelle regioni dell'Europa di cui qui nell'embo più estremo dell'Italia si avvertivano i riverberi come una riflessione ponderata degli avvenimenti nella prospettiva di un ampliamento delle indagini sia a livello locale che a livello nazionale per tutto ciò la ricerca di un Gianfranco Gallone può essere agevolmente assunta ad archetipo di ogni e pur tuttavia con simile ricerca che si vorrà compiere nel futuro e questo è rivolto ai giovani perché vedo che dopo di noi forse c'è il vuoto non vedo giovani interessati alla ricerca è vero che la ricerca storica è molto complessa e non dà come devo dire dei risultati immediati però purtroppo se quando sarà chiusa la nostra generazione per fisiologica vicenda di vita non so come andrà a finire la questione va bene comunque questa è diciamo così una considerazione un pochettino come devo dire molto molto piena di rammarico ecco diciamo così dunque in quanto nella istruzione con doppia zeta perché così nell'originale del documento del vescovo di Oria Castrese Scaia e nella relazione dell'arciprete di Ceglie d'Otranto allora si chiamava così la nostra Ceglie donato Maria Lombardi si possono individuare i poli di una stessa mentalità le due colonne d'Ercole che vedono la Chiesa di Roma interloquire con se stessa per capire come dovesse orientarsi per conoscere quali fossero i desiderata del proprio gregge come intervenire nelle necessità sia spirituali sia materiali delle popolazioni di cui aveva la cura sia delle anime che dei corpi perché all'epoca la vita religiosa e quella civile combaciavano perfettamente non c'era nessun oiato tra le due espressioni di vita senza alcuna discresia in quanto nelle macroscopiche assenze dello Stato lo Stato all'epoca pensava soltanto a fare battaglie guerre e tutto il resto mentre alla vita reale vera le necessità quotidiane della gente pensava e sopperiva la Chiesa si dispiegava tutta intera e questo l'ho detto sempre ai miei allunni a scuola tutto anche le cliniche per disintossicarsi se non cominciava la Chiesa ad aprire queste cliniche hai voglia a dormire lo Stato e i ragazzi che purtroppo cadevano in questi guai si dispiegava tutta intera l'azione caritatevole e materna che sin dai tempi del pontefice Gregorio Magno vedeva in essa il referente imprescindibile cui rivolgersi nei momenti di calamità nelle dure ore del bisogno personale e collettivo in un clima come quello attuale in cui si sente parossisticamente parlare della laicità dello Stato con una pervicacia che insospettisce sulla franchezza della richiesta e ci si dimentica con voluta protervia della salutare funzione di supplenza svolta dalla Chiesa in ogni epoca della sua bimillenaria esistenza nella latitanza miserevole degli organismi civili e statali intendo salutare con questo mio intervento la pubblicazione di uno studio dalla intelligente valenza pedagogica che si avvale ancora di un linguaggio immediato piano pacato di un lessico pertinente valoriale privo di spinte faziose bensì segnato dalla convinzione di aver compiuto da parte dell'autore un lavoro di onesto sensale come ebbe ad esprimersi in un particolare momento storico ed in una decisiva contingenza politico diplomatica il principe Otto von Bismarck lo statista dal superiore talento politico e soprattutto diplomatico cui si deve nella seconda metà del diciannovesimo secolo l'unità della Germania e la fondazione del nuovo impero tedesco sotto lo scettro di Guglielmo I di Hohenzollern praticamente Ottone von Bismarck è stato il cavur nostro per la Germania allora si potrà il classicamente constatare quindi in questo lavoro come un segmento della storia di una comunità del mezzogiorno di Italia chiedo scusa per la lunghezza dell'intervento quella di Ceglie Messapiche della diocesi di Oria la circoscrizione ecclesiastica in cui la cittadina dell'Alto Salento viene compresa e dalla quale fa riferimento si prospetti come modello come simbolo e sostanza incontrovertibile di un delicato momento storico che vede la Chiesa impegnata in una difficile contesa giurisdizionale ispirata dal marchese Bernardo Tanucci ministro del regno meridionale sotto Carlo I di Borbone e mi ricordo questo fatto la controversia che ebbe con il principe di Francavilla imperiale di Francavilla che alla fine ne venne imprigionato il primo di Francavilla perché si era messo contro questo Bernardo Tanucci che era il ministro del re di Borbone dunque Ferdinando IV dunque e di suo figlio Ferdinando IV per svincolare il reame dalla dipendenza dal pontefice suo alto signore feudale tanto è vero che il re di Napoli ogni anno il giorno di San Pietro consegnava come simbolo di vassallaggio nei confronti del pontefice la cosiddetta Chinea cioè era un cavallo bianco che il re di Napoli offriva al Papa proprio per significare concretamente questa sua dipendenza dallo stato pontificio carico carico ebbè ovvio mica era un cavallo così sempre con le pietre se tu sai ma con le mani è chiaro? dunque allora suo alto signore feudale è per abolire i molteplici i molteplici privilegi ecclesastici che appesantivano quotidianamente la vita civile e politica del regno di Napoli e alla lunga della chiesa stessa si potrà leggere come vivessero i nostri padri quali fossero le loro aspirazioni più impellenti e dal lungo termine in che misura in quei tempi calamitosi riuscissero a provvedere alle proprie famiglie ed attendere all'educazione dei figli in special modo a quella religiosa e Don Gianfranco ce l'ha spiegato qualche minuto fa a badare a se stessi in una società grama in cui l'unico diversivo era il lavoro espletato dall'alba al tramonto da yasait de sole a pueste de sole cioè dall'alba al tramonto cioè quando il sole tramonta a pueste de sole dunque in una terra ingenerosa come quella di Ceglie in cui le pietre i sassi sembrano essere piovuti con la medesima sovrabbondanza delle piogge meteoriche del diluvio universale ecco qui interviene un medico filosofo di Oria Domenico Tommaso Albanese che descrive appunto questa situazione geomorfologica dunque il suo sito è molto aspro e sassoso sì che le pietre sono tanto abbondanti quasi si sgomenta Domenico Tommaso Albanese medico e filosofo di Oria vissuto nel XVII secolo che ha lasciato manoscritta una sua storia cronologica dell'antica città di Oria in cui si parla di Ceglie sua origine e successi per successi si deve intendere gli avvenimenti succedutesi nel corso dei secoli ecco perché i successi da succedersi che siccome nel diluvio universale cascorrono copiosissime le acque dal cielo in questo luogo par che sia stato il diluvio delle pietre dove ogni chicco di grano ogni drupa di olivo costava al contadino e dagli stessi artigiani tanto sudore e tanto dolore immensamente più di quanto potesse costare ad un contadino ad un artigiano ad un bracciale e cosiddette le brazzali in dialetto no? un bracciale della sconfinata feconda voluttuosa piana salentina ovviamente il modulo di approccio allo studio di don Gianfranco Gallone non è soltanto quello proposto nelle pagine di questa presentazione l'accostamento potrà sicuramente rivelarsi multiforme a seconda di chi lo legge nel modo in cui lo si affronta nella forma in cui ciascuno se lo rappresenta o desidera raffigurarselo e l'esperienza sociale di vita di cultura a costituire la base di partenza per affrontare la lettura che però deve necessariamente essere scevra di ogni qualsiasi pregiudizio di natura ideologica o culturale per penetrare appieno nelle pagine che qui vengono offerte da un figlio di ceglie non solo alla sua madre terra non semplicemente alla sua gente ma paradigmaticamente a tutti coloro studiosi e appassionati che desiderano approfondire in maniera fruttuosa la fisionomia antropologica storica socio-religiosa di una comunità che risponde al nome di ceglie messapica per tutti questi elementi dunque il lavoro di don Gianfranco Gallone si presenta come un saggio succoso e l'accattivante dotato di un apparato di testimonianze documentarie di un corredo critico e iconografico tutto di primaria qualità che conduce il lettore con mano leggera con sorvegliata consapevolezza a ripare sua la propria terra le proprie tradizioni le proprie radici insomma per dirla con un solo lessema la propria identità grazie grazie professore insomma ceglie messapica una terra arida ma fertile di sacerdoti però tra questi c'è c'è anche Monsignor Gianfranco Gallone che mostra un interesse particolare per il locale perché Monsignor Gianfranco questo interesse diventa appunto molto radicato molto forte fossile quando si è lontani credo che chi si è allontanato da ceglie e qui il nostro Domenico può dircelo per tanti anni che cosa significhi ritornare proprio alla propria terra rivivere le tradizioni familiari della comunità quelle religiose quelle che ci hanno fatto crescere da ragazzi allora il ritornare qui nella propria terra indica appunto un risvegliare l'appartenenza identitaria ora il desiderio mio è nato anche da un fatto molto normale dico io secondo me qual è il fatto normale io avevo letto da ragazzo la storia di Ceglie Messapica che aveva scritto Don Beppe Magno come usiamo chiamarlo l'avvocato Magno e ricordo molto bene e ancora il libro nelle biblioteche e chi è stato lui a immobularci un fataglurgo in Ceglie della ricerca storica perché su alcuni periodi si è dilungato altri periodi li riduceva in una frase nel 600 c'è stato questo nel 700 c'è stato quest'altro poi c'era una parte c'è una parte molto poderosa della Ceglie nell'800 e poi degli inizi del 900 quindi ha saltato a pie pari molti secoli allora che cosa è successo in questo periodo a Ceglie di qui è nata la mia ricerca il mio desiderio e naturalmente dov'è che tu devi cercare nei documenti purtroppo i documenti che si hanno si custodiscono o si custodivano che qui devo aprire adesso una piccola parentesi che io ho avuto modo di poter leggere nell'archivio soprattutto storico calefati di Oria sono documenti ecclesiastici quindi documenti che riguardano le visite pastorali l'agnanze del clero caos che il clero faceva tra prete e prete tra religiosi e capitolo per questioni di confine quindi tutto ciò che si conserva nell'archivio di Oria tutto ruota intorno alla chiesa madre allora il primo documento che mi ha interessato mi ha suscitato questo desiderio di farlo conoscere e di trascriverlo è stata appunto la relazione dell'arciprete donato Maria Lombardi quindi di qui è nato il primo libro e questo primo libro ha fatto conoscere tante cose per esempio la parrocchia di San Rocco faccio un'anticipazione questa sera sta organizzando la solennità perché sarà una solennità quest'anno di Sant'Anna perché quest'anno 2017 ricorre il trecentesimo anniversario dell'arrivo della statua quindi quando il capitolo realizzò la statua quindi la prima processione del capitolo a Ceglie è la processione di Sant'Anna quindi don Lorenzo so che si sta dando da fare ha costituito già un comitato mi ha consultato per quello che vuole fare io spero che l'amministrazione darà il suo contributo non nel senso economico ma anche per ciò che lui vuole realizzare perché mi ha chiesto anche che vorrebbe fare una specie di corteo storico per far rivivere i personaggi dell'epoca perché si potesse così idealmente avere un film vivente di quando arrivò la statua di Sant'Anna a Ceglie e quindi vedere il capitolo come si vestiva a quell'epoca i preti chi era il governatore chi era il duca come si vestivano quindi ci sarà anche una ricerca per quanto riguarda gli abiti quindi il popolo come vestiva e credo che se ci riuscirà sarà una bella cosa per Ceglie credo non solo al fatto religioso in sé ma anche darà una manifestazione pure folclorica forse di conoscenza anche per il turista che in quei mesi in quel mese in quel periodo si troverà qui a Ceglie quindi questo grazie a questo documento quindi se questo documento non fosse stato pubblicato non avremmo saputo quando la statua di Sant'Anna è stata realizzata bene quindi una ricerca i documenti le fonti diceva giustamente il professore Scatigna è una ricerca intorno a Ceglie ma si può dire che è anche una ricerca intorno al Cegliese di ieri per capire il Cegliese di oggi sì credo di sì per quello che si può capire perché a me dispiace moltissimo che il Cegliese di oggi fugge da Ceglie soprattutto i nostri giovani che si realizzano a livello culturale quindi conseguendo dei titoli importanti poi non vogliono più tornare a Ceglie forse solo finché vivono i genitori poi con Ceglie non vogliono avere più niente di qui nasce poi dirò più avanti il desiderio di pubblicare l'altro volume e che lavoro sto facendo ora è chiaro che la mia attenzione non è stata l'attenzione al potere feudale perché ci sono stati altri storici senza nulla togliere riconoscendo il loro lavoro che hanno fatto che hanno focalizzato la loro attenzione sul feudatario sulla famiglia feudataria mettendo in evidenza la loro ascendenza discendenza tutto quello che era necessario ed è necessario conoscere di una persona importante quindi quando si trova a possedere un feudo come era appunto il feudo di Ceglie quindi per esempio in questo volume io non parlo dei sisti ibritto anche perché Ceglie con il suo feudatario non ha avuto mai un rapporto sereno credo che solo con le donne che sono state feudatarie c'è stato un innamoramento dei Cegliesi con la persona che dominava in quel momento allora di Ceglie sempre almeno nei documenti che sto trattando adesso si parla molto bene di Aurelia Sanseverino ma non si parla bene di suo nipote Gian Giacomo che non lo volevano assolutamente con cui hanno fatto cause hanno litigato per più di vent'anni nei tribunali napoletani perché si volevano sganciare da questo predominio da questo vassallaggio che molte volte diventava sfissiante e qui posso già fare qualche notizia storica che può interessare per esempio quando il comune di Ceglie per problemi delle guerre che il vice reame soprattutto la Spagna quindi Napoli doveva sovvenire con forti ingenti somme la guerra dei trent'anni che era una guerra purtroppo di religione che contrapponeva protestanti e cattolici che si stava combattendo nell'Europa dell'epoca in cui tutti i regnanti erano in guerra tra di loro è chiaro che per poter mantenere le spese bisognava succhiare il sangue ai propri sudditi quindi il comune di Ceglie ad un certo momento l'università non ce l'ha fatta ha dovuto dichiarare fallimento e per poter recuperare le somme che erano necessarie per poter pagare ciò che era dovuto allo Stato ha dovuto vendere ciò che era la rendita dell'università e una di queste era la decima sulla farina quindi sul macinare il grano e sul fare il pane che la comprò il feudatario del tempo che era il Lubrano naturalmente quando poi il comune ha avuto la possibilità di ricomprarsi quello che era il suo diritto quindi una sua tassa che gli spettava ha dovuto litigare con il feudatario fino al 1747 qui non c'è in questo libro quando il regio sacro consiglio di Napoli decise ed intimò all'erede quindi feudatario Sisto e Britto di restituire all'università di Ceglie questo suo diritto di decima sulla farina quindi vedete è durato più o meno dal 1627 quando fu dichiarato il fallimento quindi questo problema economico del comune fino al 1700 fino alla metà del 1700 più di 100 anni quindi che cosa hanno fatto i feudatari qui a Ceglie una volta il professore ricorderà questo colpì me perché non ero sacerdote fu organizzato da Don Vittorio una serata per l'inaugurazione del restauro pessimo che fecero nella chiesa di San Domenico dove tolsero dal coro e dal pulpito quel colore verde veneziano dorato che c'era perché secondo loro riportare a faccia vista secondo al legno era quella l'idea originaria di chi aveva dotato la chiesa del coro allora fu organizzata a Don Vittorio una per l'inaugurazione una serata in cui si alternarono ricordo padre Tarcisio Turrisi che è un nostro concittadino storico storico anche lui passionista e poi il professore il professore aveva vantato nella sua presentazione brevissima la famiglia San Severino quindi Aurelia e il marito per aver chiamato i Domenicani a Ceglie quindi diceva se questa chiesa se noi possiamo ammirare grazie a questa famiglia quindi aveva detto se non ci fossero dietro le costruzioni delle chiese e stasera farò una piccola rivelazione a voi che portate un cognome particolare quindi se non ci fossero queste famiglie che fanno delle donazioni alla chiesa realizzano qualcosa nella chiesa non avremmo questi beni artistici e ricordo che l'allora presidente del consiglio regionale si alzò presse la parola era Mario Annese perché era di Cila ricordo che rimproverò il professore per aver dato un po' quest'onore alle famiglie nobili soprattutto ai feudali dice quelli che provavano utium sobal spad delle cristiane che dice che da sopra il castello sparassero o provassero le loro armi forse questo è vero perché nella storia tramandata non sappiamo però sappiamo che per esempio se a Ceglie c'è il cognome Sisto spero che nessuno qui si chiami Sisto purtroppo è perché il Sisto e Britto si divertiva con le nostre e quindi c'erano i figli e poi gli dava il cognome ma non lo dava completo perché altrimenti avrebbe vantato terre e gli dava una casetta noturragna e però tiene il cognome ecco questo è bene in questa occasione non risposi al Presidente del Consiglio per evitare questioni di atribe e tutto quanto ma la risposta non è stata la prima a Don Gianfranco Gandone avrei voluto dirgli tu hai lavorato per tutta la tua vita per diventare come i quelli ma non ci sei mai allora continuiamo invece con l'intervista parlava proprio prima Monsignor Gallone di un altro lavoro che so che lo sta impagnando da oltre otto anni di ricerca e faceva riferimento anche al discorso dei cognomi in questo nuovo lavoro che sta facendo si è dedicato addirittura un intero capitolo alla questione dei cognomi ci vuol fare un cenno al libro e al lavoro che sta facendo in più anche al discorso dei cognomi voglio completare il lavoro che io avevo condotto prima per questo libro era un lavoro di fotocopie perché non c'erano le macchine digitali all'epoca quindi negli anni 90 quindi prima di partire per il servizio diplomatico meglio dire negli anni 90 avevo trascorso parecchie giornate nell'archivio a fare fotocopie di quello che potesse poi interessarmi se pubblicare oppure no qui avevo accennato a qualcosa che riguardava l'archivio diocesano di Oria quando poi io sono dovuto andare per confrontare gli appunti anche che avevo preso riguardanti alcune visite pastorali il mio disappunto è stato enorme e un'amerezza profonda vedere che mancassero dalle visite pastorali di Ceglie tutto il fascicolo riguardante Ceglie Messapiche quindi qualcuno che si era spacciato amante della storia nostra è andato nell'archivio forse nella distrazione che voleva consultare poi è andato via con il documento quindi non esistono più per esempio le relazioni che purtroppo dovrebbero servirmi per il mio lavoro del vescovo Parisi del vescovo Palma riguardanti i Ceglie cioè la prima metà del 600 e altri documenti pure sono spariti che io avevo consultato e che su un'agenda avevo appuntato tutto quindi la prima parte diciamo di questa pubblicazione erano appunti e fotocopie ora il lavoro che io sto conducendo lo devo grazie a qui il professore Solazzo e sua moglie Gabriella Cito che ho messo in croce quando ero lontano a venire a Ceglie andare lì o andare insieme a lui all'archivio di Stato di Brindisi oppure a mio fratello quando sono andato all'archivio di Stato di Napoli io lavoro sulle fotografie di documenti con me ho forse abbiamo fatto forse 20-30 mila foto di documenti quindi sottrago poi le ore notturne quando ero in unziatura al lavoro non potevo sottrarre molto quindi bisognava produrre il lavoro di un'unziatura la sera dopo cena invece di vedere la tv soprattutto se ero fuori non mi interessavano i canali locali non c'era canale italiano allora lo dedicavo a leggere questi documenti quindi leggere trascrivere trascrivere allora il primo lavoro che ho fatto ho trascritto tutto il catasto del 1602-1603 naturalmente con tutti i fuochi quindi tutti i nuclei familiari quindi una trascrizione che mi ha portato via due anni di lavoro perché capire questa scrittura vedere tutto naturalmente io non sono il primo che studio il catasto l'ha studiato prima di me un certo Antelmi credo ha fatto una sua tesi di laurea e poi più di recente vale a dire una quindicina d'anni fa il professore Cosimo Palmisano lui ha pubblicato con Umanesimo della Pietra vari studi sul sul catasto quindi lui ha fatto un suo approccio il mio approccio è differente che cosa ho fatto io non solo ho trascritto tutti i nuclei familiari purtroppo il catasto è un catasto mutilo perché quando il comune di Sceglie versò i documenti credo nell'ottocento questo quando ci fu una circolare dopo il periodo napoleonico o durante quel periodo che i comuni dovessero versare alla provincia che era Lecce in quel momento la provincia di terra d'Otranto tutto ciò che era l'archivio cartaceo che avessero per poterlo custodire meglio questo documento purtroppo è mutilo perché è mancante di tanti nuclei familiari e è stato restaurato dall'archivio di stato di Brindisi quindi è consultabile lì a Brindisi allora qual è stato il mio lavoro che ho fatto non solo ho trascritto questo ma ho voluto dare un volto una storia a quei nomi che sono in questo libro quindi ho fatto un altro lavoro ho preso il libro più antico che ci è rimasto e già ho visto che è spaginato l'ho consultato un paio di mesi fa e questo mi ha ferito un'altra volta perché chi va a fare questo lavoro nell'archivio non rispetta il documento noi abbiamo il libro dei battesimi così chiamato che non è solo il libro dei battesimi che ha alcuni atti di battesimo che vanno dal 1525 al 1529 e poi tutti gli atti di battesimo dalla fine di agosto 1565 sino all'agosto 1602 con un paio d'atti di battesimo del 1603 tra l'altro il volume che va dal 1603 al 1675 è sparito anche questo sottratto chi l'ha consultato se l'è portato a casa e poi si è scordato di riportarlo questo è il tempo di Don Vittorio Mele purtroppo quindi c'è un vulnus anche qui nella nostra storia familiare per chi dovesse avere il desiderio di conoscere chi sono i miei antenati da chi discendo io allora qual è stato che lavoro ho fatto ho fatto la ricerca una ricerca quasi certosina di trovare l'atto di battesimo di ogni persona che li censite in questo catastro non solo l'atto di matrimonio chi era naturalmente era sempre l'arciprete che celebrava il matrimonio chi erano i testimoni come veniva celebrato il matrimonio ho fatto una scoperta interessantissima tra l'altro la dottoressa di Rocco che lei conoscerà che lavora presso l'archivio Arcivescovile la biblioteca di Leo di Brindisi quindi ha già fatto un piccolo studio lei l'ha fatto sulla famiglia dei Cristofaro a Ceglie e quindi ha avuto modo di apprendere una cosa molto bella che c'è qui a Ceglie che si usava a Ceglie a Ceglie c'è un documento che è proprio un matrimonio un documento di un contratto di matrimonio del 1500 che io ho trascritto in cui si dice qui a Ceglie per quanto riguarda il matrimonio noi facciamo il matrimonio secondo l'uso Longobardo ed è l'uso Longobardo che si segue nella città di Brindisi quindi questo che cosa dice che il matrimonio quindi l'istituto matrimoniale come veniva qui a Ceglie in questo periodo io ho trovato gli elementi che configurano proprio il matrimonio come secondo il documento di Rotary che stabiliva come dovesse essere celebrato il matrimonio quindi è un documento dell'ottavo secolo quindi a Ceglie vuol dire che da quel periodo fino al 1500 addirittura ho trovato altri documenti del 1632 34 1646 che c'è la figura del Mundualdo che è quello che custodisce la sposa perché la sposa è una cosa tradita quindi che si consegna quindi che si dà quindi la proprietà che riceve come dote la sposa da parte della famiglia la sposa non può decidere da sola senza il Mundualdo che è un rappresentante della sua famiglia che può disporre dire sì puoi fare il patrimonio sacro a tuo figlio che sta per diventare sacerdote oppure puoi vendere questa proprietà quindi la figura del Mundualdo quindi è descritto molte volte e addirittura se non c'è il padre che è morto allora questa figura la deve svolgere il fratello maggiore se non c'è il fratello maggiore lo zio materno o paterno e se non c'è lo zio deve essere qualcuno della famiglia della sposa che deve garantire questo fatto qui della cosa che viene consegnata ecco questa è una realtà allora questo ci porterà a scoprire le nostre radici allora ecco qui arriviamo ai cognomi il cognome più diffuso a Ceglie nel Cinquecento innanzitutto e Santoro se non ricordo male i bambini battezzati dal 1565 al 1602 sono circa 250 260 bambini il secondo cognome più diffuso a Ceglie è Vitale e anche qui i bambini battezzati in questo periodo sono 226 allora questi cognomi sentire Santoro Vitale Leporale Scarafilo Urso Scatigna Epicoco Nannavecchia Suma che poi non era Suma perché il cognome è stato fatto diventare Suma perché non sapevano poi più leggere l'abbreviazione che facevano in questo periodo della doppia S che si metteva una specie di diere si sopra quindi Suma sulla M quindi diventava una M quindi chi è venuto dopo ha letto Suma quindi il cognome Suma è stato inventato a Ceglie il cognome Bellanova dove è inventato a Ceglie perché la famiglia quando è arrivata a Ceglie si chiamava Villanova ma per il difetto di pronuncia dialettale nel 600 la V è diventata B quindi da Villanova è diventato Bellanova oppure l'altro cognome Principalli Principalli è un cognome inventato a Ceglie il cognome originario è Vinci Vallo quindi da Vinci Vallo quindi potete capire il dialetto no Vringe Vinge 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 allora la P quindi quello capiva P ha scritto P perché poi ho scoperto sempre negli atti di battesimo che molte volte il padre una volta lo chiamavano con un cognome un'altra volta con un altro cognome per esempio il nome il cognome Lodedo Lodedo qui a Ceglie arriva questa persona che poi porterà questo cognome Lodedo arriva da Padula della Campania perché sarà sicuramente portato qui dai San Severino è arrivato nella metà del Cinquecento e si chiamava all'inizio della Padula poi verso la fine del Cinquecento è diventato Lodedo quindi vuol dire che questa persona ha manifestato in quel momento i figli qual era il cognome originario che avevano nella loro terra nella loro città di origine quindi che era Lodedo quindi il cognome Lodedo viene qui poi messo perché molte volte all'inizio troviamo il cognome della città per esempio quando si trova Carovigno di Carovigno perché il marito di questa signora che era Cegliese Argentiero per esempio un altro cognome Cegliese Doc si chiamava poi Memmola quindi Memmola prima si chiamava Antonio di Carovigno poi ho trovato quando io cercavo il battesimo del figlio del nipote non trovavo come la storia qui quindi facendo poi l'atto di matrimonio chi è stato a consegnare la sposa la madre chi era e allora in base al cognome riuscivo poi sono riuscito a ricostruire poi l'altro documento che mi ha aiutato moltissimo anche questo mutilo purtroppo è uno stato d'anime che chi ha messo a posto l'archivio della chiesa madre di Ceglie ha scritto stato d'anime del XVII secolo no questo stato d'anime è stato fatto durante il periodo in cui era arciprete Gregorio Monaco e poi continuato quindi il periodo in cui lui era arciprete era tra il mille insomma è stato per vari anni però lui è morto alla fine di agosto del 1565 tra l'altro poi non era un arciprete di vita virtuosa di santa vita perché aveva una donna tra l'altro nel libro ho messo pure i figli dei preti perché trovando chi era la sua compagna con chi si divertiva e poi vedendo che questa qui andava a battezzare il figlio senza padre allora subito ho scoperto di chi era il figlio quindi per alcuni ho messo anche purtroppo erano sacerdoti che non custodivano bene insomma la storia è sempre maestra di vita attualmente sono le stesse cose più o meno l'odeto l'ode do cioè offro la lode a Dio questo significa il cognome l'odeno insomma diviso in due parti l'ode do da dare no la lode attraverso la lode a Dio bene bene come avete potuto notare davvero un lavoro interessante anzi dei lavori interessanti davvero come altrettanto interessante è la vita e la persona di Monsignor Gianfranco Gallone che ho avuto il piacere di intervistare per la prima volta perché è la prima volta che lui si fa intervistare quindi davvero per me è doppio insomma l'onore e il piacere di aver partecipato a questa serata se un attimo vuole anche concludere ecco vorrei leggere qualcosa riguardo alla Chiesa Madre che c'era prima di questa tra il 1521 ed il 1526 durante il presulato dell'arcivescovo Girolamo Aleandro fu totalmente rifatta la Chiesa Matrice e vennero collocati in essa vari altari fondati dalle famiglie più in vista della terra di Ceglie nella navata di destra subito dopo l'altare del Rosario eretto dagli Epifani quindi anche questo un cognome cegliese gli arcieri eressero un altare in onore di San Paolo Apostolo i Marchese fecero costruire l'altare in onore della concezione della Beata Vergine Maria i Leporale vollero innalzare un altare in onore di Santo Stefano protomartire i De Gelia o di Ceglie avevano fatto erigere l'altare dei Santi Apostoli Pietro e Paolo passato poi alla famiglia Lerna anche questa una famiglia cegliese purtroppo i De Gelia si trasferirono da Ceglie ad Ostuni e uno di questi è stato anche arciprete nella seconda metà del Quattrocento della Cattedrale di Ostuni Donna Caterina Alemanno aveva voluto dedicare un altare sotto il titolo della Pietà mentre nel lato sinistro dell'antico edificio sacro subito dopo l'altare maggiore vi era un altare dedicato alla Santa Croce o De Pisano di cui non si conoscono più chi fossero stati fondatori perché già si trovava eretto nella precedente chiesa i monaco in quella navata come già accennato eressero l'altare in onore della Madonna della Grazia i nisi elevarono l'altare in onore della Santissima Trinità sotto il titolo di Santa Lucia i vacca invece offrirono l'altare in onore di San Vito mentre si trovava già eretto un altro altare dedicato alla purificazione della Vergine il cui beneficio era costituito da una cospicua dote la terra era la masseria attualmente che noi chiamiamo di fedele grande anche questo è un interesse che ha suscitato in me riportare i toponimi del nostro territorio così come erano in origine non come li conosciamo adesso e all'epoca si chiamava la lama della Trigna quindi che confinava dice lì con il feudo di San Cataldo che sarebbe quella parte del territorio martinese che i principi di Taranto avevano dato alla mensa vescovile di Taranto attaccato alla porta piccola della chiesa si trovava infine l'altare di Santa Caterina Vergine Martire eretto dagli Scarafilo e poi quello di San Francesco eretto dal notaio Angelo De Veneritis anche questo i Venerito sono censiti qui a Ceglie più o meno dalla seconda metà del 1300 e sono stati più o meno sempre notai poi ci sono gli altri non so come mai abbiamo i Gioia che alcuni sono aristocratici e altri che sono foresi quindi persone che lavorano la terra ho lasciato anche la storia per dire di coloro che erano povera vedova miserabile persone povere quindi carico di famiglie miserabile quindi ognuno avrà poi la bontà di ricercarsi la propria scendenza se vuole in questo mio lavoro mio libro che spero entro l'estate di darlo alle stampe e alla conoscenza del pubblico grazie bene benissimo lo leggeremo con molta molta attenzione ringrazio ancora una volta i Lions per questa per questa serata e passo la parola per i saluti finali al presidente Leonardo Urso io ho poco da dire voglio solo ringraziarlo ancora una volta però vorrei fare una domanda impertirente perdonami ma è vero nelle tue annunziature i vari luoghi in cui sei stato ma in posti come il Mozambico e l'India non Don Gianfranco Gallone sacerdote ma l'uomo Gianfranco Gallone quali sensazioni ha provato cosa ha visto cosa in Africa se voi avrete l'avventura di andare in Africa vi ammalerete del mal d'Africa perché lì si assapora un fatto molto particolare di non avere fretta c'è tempo per ogni cosa dedicare il tempo a quello che si sta facendo domani ci penseremo ma non vi preoccupate domani se avremo da mangiare mangeremo oggi abbiamo un pollo lo uccidiamo lo mangiamo domani se c'è qualcosa da mangiare mangeremo quindi per dire la realtà di assaporare il tempo e poi ascoltare perché io ricordo in un'unziatura le suore erano suore mozambicane la sera come ho detto io non vedevo la tv ci sedevamo fuori soprattutto l'estate lì e la parte australe dell'Africa quindi l'estate quando qui è inverno quindi dicembre gennaio e mi facevo raccontare le storie quindi della sua tribù questa suore si chiamava suore Becca si chiama e appartiene alla tribù dei Makua che è la tribù più grande del Mozambico che vive nel nord del paese quindi queste tradizioni come avveniva l'iniziazione per un uomo come era l'iniziazione per una donna ecco e sapere tutte queste storie e vedere anche queste cose che vediamo alla tv con i documentari soprattutto gli atti di coraggio quindi i ragazzi che a 12 13 anni venivano separati per un mese mandati nella foresta poi veniva il regolo quindi quello che comandava il villaggio con il fetisseiro cioè quello che faceva o curandeiro che faceva anche da medico medico tradizionale faceva la circoncisione quindi dovevano dare questi atti di coraggio quindi con le belve feroci e queste storie tutte queste cose ti affascinano e lasciano in te un ricordo e tanto che io dico ai miei superiori io in Africa voglio tornare mi raccomando quando sarà di nuovo che mi dovete rimettere in movimento rimandatemi in Africa quindi devo dire che forse ho sviluppato il mal d'Africa in India in India è una realtà tutta particolare perché l'India è un subcontinente quindi pensate un miliardo e quasi 300 milioni di persone una democrazia in crescita un modello di democrazia la cosa che mi colpiva soprattutto in India è vedere come il Parlamento per un miliardo e più di persone era costituito più o meno dagli stessi deputati che abbiamo in Italia lì non hanno il Senato quindi c'è solo il Parlamento quindi 560 deputati è ben rappresentati perché sono anche rappresentati pure i gruppi minori quelli che perché c'è tutto un lavoro di proporzione quando fanno e c'è un'alternanza molto forte tra opposizione e chi sta al governo perché se non fanno le cose come dovrebbero i cittadini puniscono il governante del momento e favoriscono chi era l'opposizione quindi questa è la cosa che più mi ha colpito in India al di là della tradizione perché purtroppo in India non ho potuto viaggiare come invece in Africa perché il lavoro era enorme quindi pensate quasi un continente un subcontinente quindi non avevo molto tempo ho viaggiato ma erano sempre viaggi di loro quindi non ho avuto conoscenza di andare a vedere le cose storiche dell'India come invece ho avuto modo in altre parti dove sono stato grazie comunque chiudiamo qui la serata vi ringraziamo tutti ancora una volta e ringrazio soprattutto Don Gianfranco Bellone chiudo la serata col solito tocco di campana grazie